Ciao a tutti e benvenuti. Mi spiace se qualcuno di voi, più di qualcuno, è rimasto in piedi, purtroppo gli spazi sono questi e quindi dobbiamo un attimino organizzarci. Vi volgo il mio saluto e intanto un grazie per essere venuti. Come in tutti i momenti importanti, questo è un grande momento per noi, per la nostra sezione di Marsala e per lo sport in generale di questa città, è giunto sugellare questo momento con delle note musicali che sicuramente conoscete bene perché imprimono qualsiasi momento sportivo importante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora... Sembrava giunto cominciare con queste note musicali, un bel segnale, importante e vi ho già ringraziato, però devo veramente di cuore ringraziare chi ci ha permesso di essere qui oggi, chi ci ha permesso di realizzare un progetto che è partito qualche mese fa e di raggiungere e di raggiungere questo obiettivo importante per gli arti di Marsala. ringraziato... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.